Ha piccato un incendio nel suo appartamento di via Darwin ad Arezzo, al primo piano di una palazzina di proprietà di Arezzo Casa, quindi quartiere popolare, ed è stato arrestato. Si tratta di un sessantenne con un trascorso da tossicodipendente che abita lì assieme alla mamma, ora assente perché colpita da una malattia. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 19.30, pare partite dal ripostiglio. Sono stati gli stessi condomini che si sono accorti del fumo che saliva dalle scale ad avvisare i vigi del fuoco. Sul posto si sono portati tre mezzi, 13 uomini del comando provinciale di Arezzo, dei vigi del fuoco e di condomini sono stati evacuati. Otto le persone che sono rimaste però intossicate, di età compresa tra i 18 e 79 anni, portate al pronto soccorso di Arezzo in codice giallo e verde. L'uomo invece è stato prima tratto in salvo e poi arrestato. La gente che abita lì però ci racconta che il sessantenne era un soggetto noto alle forze dell'ordine dai servizi sociali e che prima o poi avrebbe fatto un gesto del genere. Si comportava degli atteggiamenti un po' particolari, faceva delle cose strane, montava la finestra, faceva i raccontatori, insomma dava segni di non equilibrio. Poi la famiglia credo che è preoccupata perché qui nessuno interviene, nessuno fa, tutti se ne fregano. Questo ha fatto questa cosa che non va bene, ha messo a rischio tutto il condominio. Cioè già giravo qui, staccava la finestra, staccato, sì, già ho cominciato a preparare quelle cose. Un mese fa, sempre al primo piano, quindi nello stesso pianerotto lo sarebbe accaduto un altro incendio, ancora dunque un episodio simile, in questo caso però meno grave. Adesso l'appartamento è abitato da un'altra famiglia.